Per Settimana Sport siamo con Cavallina Andrea, portiere della Corniglianese. Andrea, diciamo una vittoria meritata anche se i due gol sono nati da due errori difensivi. Ad ogni modo sei stato pronto quando la rossiglionese si è presentata davanti a voi con due strapitose parate in calcio d'angolo. Dimmi un po' se te le ricordi e dimmi il commento sulla partita. Una partita sicuramente per noi fondamentale perché arrivavamo da 8 punti di vantaggio sul Masone che se non ho capito male ha pareggiato, ha vinto il Kezmaia, quindi ora siamo a più 9 sul Kezmaia e per noi era fondamentale continuare a tenere punti. Avevamo giocatori squalificati, qualche infortunato e effettivamente siamo stati infortunati su due gol però c'eravamo, abbiamo lottato su ogni pallone, il gruppo è quello giusto, stiamo lottando. Ci siamo quasi, non ci siamo ancora, non dobbiamo mollare, mancano ancora 7 partite, quindi non dobbiamo mollare. Abbiamo avuto qualche piccolo errore difensivo, sono riuscito a metterci due pezze e dobbiamo continuare così dobbiamo continuare così perché l'obiettivo principale è quello di arrivare fino in fondo e dedicare sempre a lui, a Marius, il nostro campionato. Ok, bello il riferimento a Marius. E niente, bocca al lupo per le prossime partite. Ciao Andrea, ci rivedremo sui campi. Grazie, ciao.